Ben trovati a Starting Six, il nostro osservatorio sulla palla a volo che nella Serie A1 Ticotà femminile ha appena superato lo scoglio della gara 1 di semifinale Scudetto. La prima che non ti aspetti è una gara 1 di semifinale Scudetto conclusa con due 3 a 0 che non ammettono repliche e in realtà fanno intravedere qualche crepa nelle squadre che l'hanno subito. E se la 45esima vittoria di fila di Conegliano contro Novara, già vista peraltro parecchio in difficoltà in gara 3 le quarti di finale con Chieri, era prevedibile, quello che non era prevedibile era le dimensioni del successo delle Venete ma del resto era poco pronosticabile anche il netto, il successo pieno di Scandicci su Milano. E proprio da qua partiamo ricordando che prima di gara 1 della semifinale Scudetto nelle tre sfide che avevano visto opposto Scandicci e Milano durante la stagione le avevano venite tutte e tre in Milano, due nella regular season andata e ritorno e l'altra nella semifinale di Coppa Italia. E allora come si spiega questo pesante passo indietro dell'Allianz Vero Volley Milano? E la lettura è anche troppo semplice perché se la tua giocatrice più importante, cioè Paolo Egonu, la fuoriclasse della pallavolo femminile italiana, mette a terra appena 17 punti con un 13% di efficienza in attacco e capisci che è davvero difficile avere possibilità di lottare perché proprio non hai le armi. Scandicci invece ha fatto il suo tenendo molto alto e costante su tutto il livello del suo gioco soprattutto in seconda linea e potendo anche contare su un terminale d'attacco come l'Antropova che ha vinto la sfida a distanza con l'Egonu, finendo per essere nominata come MVP dell'incontro. Poi vai a guardare i numeri e ti rendi conto che Milano ha anche attaccato meglio 41% contro 36% e ricevuto meglio 50% contro 32% con i soli ace a vantaggio di Scandicci, 6 contro 4. Ma come ha ricordato il tecnico di Scandicci Massimo Barbolini, c'è poco da illudersi intanto perché anche l'anno scorso, sempre in gara 1 e semifinale, Scandicci uscì vintoriosa ma poi come appunto ricorda il coach la finale Scandicci l'ha vista in tv e poi perché il vero termometro della situazione lo darà la capacità di tenuta e di reazione di Scandicci all'ipotizzabile e presumibile rinalzamento del livello di gioco di Milano e della stessa Egonu. Ancora più marcata la differenza vista in campo fra Conegliano e Novara è vero giocare contro Limoco è complicato, quasi impossibile è una squadra che vince in intortamente da un anno, 45 partite di fila non ha cali mentali nel passaggio a vuoto, è forte in tutti i fondamentali e non concede spazio però Novara oggettivamente ha fatto un po' troppo poco, è riuscito a fare un po' troppo poco solo la Bosetti ha chiuso in doppia cifra, 13 punti, la Marcova si è fermata a 9 ben poca cosa rispetto al trio d'attacco di Santarelli con Naac che ha fatto 18 punti Plummer 14, Robinson Cook 11, oltre al contributo, al grande contributo delle centrali come Far e Lubian che hanno fatto 5 punti a testa, senza dimenticare ovviamente la magica alzatrice Volos che è stata premiata come MVP dell'incontro nel giorno del suo compleanno così a Novara ora è rimasta solo la chance di gara 2 domani sera in casa ma certamente se vorrà provare a impenserire la squadra di Santarelli Novara deve fare un'inversione di marcia di rendimento poderosa, davvero notevole la Chirichella promette assolutamente battaglia, vedremo se sarà effettivamente così Alla fine non c'è solo Scandicci in vantaggio sul Milano in questa serie di semifinale scudetto ma anche l'Antropova ha vinto il suo personalissimo primo round nella sfida nemmeno troppo a distanza con Paolo Egonu apparsa come l'ombra di se stessa a differenza dell'Antropova che ha dato il suo abituale contributo alla squadra di Barbolini sia in attacco che a servizio e a muro Già il paradosso è che a sembrare emozionata e nervosa è sembrata proprio più l'Egonu che la sua giovane rivale tra i club e il nazionale ma è solo il primo round e le fuoriclasse come l'Egonu non sbagliano mai due partiti di fila non abbiamo dubbi se domani arriverà la sua reazione ma solo se Scandicci sarà in grado di contenerla più che semifinale scudetto sembrano gare di resistenza fisica e mentale ai confini dello sfinimento una corsa in seguimento, una partita a scacchi dove a una mossa di una squadra corrisponde, c'è l'immediata risposta conseguente dell'altra il risultato è un equilibrio in movimento per quanto precario quello che il giorno prima veniva dato quasi per scontato per sicuro viene subito messo in discussione il giorno successivo questo al netto della situazione delle due serie di semifinale che vedono in vantaggio per 2-1 Trento e Perugia rispettivamente su Monza e Milano e cominciamo subito da Monza tanto per essere ancora più chiari dopo aver eliminato Civitanova nei quarti di finale pochi o nessuno davano chance ai Brianzoli contro Trento soprattutto dopo la seconda sconfitta di fila in gara 2 che aveva messo Monza spalle al muro ai confini dell'eliminazione e invece domenica cosa succede? che la squadra di Echeli va a Trento e c'entra il colpaccio la prima vittoria in assoluto della squadra lombarda è sul campo di Trento va sotto nel primo set pareggia, ribalta il punteggio si fa raggiungere nel quarto set sempre ai vantaggi e chiude alla fine la partita con un tie-break vinto appunto sempre ai vantaggi una impresa davvero da ricordare tutto questo nonostante l'ottima prestazione di sua maestà Alessandro Micheletto 55% in attacco con 24 punti accompagnato in questa prestazione da un buon Lavia anche lui in doppia cifra 20 punti e 42% in attacco ma entrambi sono stati costretti ad arrendersi all'invenzione del tecnico di Monza Echeli che ha schierato invece dell'opposto svantito sui tre martelli cioè Takashi con 25 punti Leppchi 24 e Mar 22 poi a guardare bene i numeri ti accorgi che Trento a parità di attacco di squadra 49% ciascuno ha murato meglio 14 muri contro 10 e anche ricevuto meglio ma evidentemente non è riuscito a trovare le contromisure adatte a fermare questa diversa formula di gioco di attacco scelta da Echeli del resto Monza era già riuscita all'impresa di battere Trento nella semifinale di Coppa Italia ma questa volta però non sarà una gara secca e ci dovremo aspettare una gara 4 giovedì di semifinale play-off scudetto ancora molto appassionante sicuramente si lotterà più semplice e meno combattuta del previsto invece gara 3 dell'altra semifinale scudetto a Perugia che ha visto prevalere in maniera piuttosto netta gli Umbri contro Milano anche in maniera abbastanza inaspettata e nonostante il preludio avesse fatto immaginare una serata molto più complessa per la squadra di Lorenzetti infatti pronti via Milano ha vinto il primo set e ha fatto tornare in mente ai diffusi Umbri e a Perugia gli incubi dei quarti finali dello scorso anno di gara 2 invece da quel momento in poi si è vista in campo una sola squadra Perugia con una prestazione complessiva davvero notevole esaltata dal solito show di Simone Giannelli in palleggio con la sua distribuzione equilibrata la sua precisione ha impedito a Milano di mettere in campo la sua qualità migliore cioè la combattività dicevamo della prestazione collettiva e superlativa di Perugia una prestazione spiegata molto bene dai numeri che hanno visto protagonista l'opposto tunisino Bentara con 24 punti accompagnato da Semeniuk e 16 con 4 muri e dallo stesso Plotnischi con 11 ma è stata tutta la squadra a giocare in maniera superlativa con i centrali Flavio che ha realizzato 11 punti e il 78% di efficacia nei primi tempi e lo stesso Russo è decisamente incesivo al servizio tutte le statistiche dicono Perugia hanno detto Perugia perché parliamo di 14 muri che hanno fatto una profonda differenza insieme all'efficacia in attacco di squadra al 54% contro il 45% di Milano la squadra di piazza ha provato a contenere lo stato potere fisico soprattutto a muro di Perugia con Kazischi 15 punti del Gare 13 e lo stesso di Chicago a 10 ma alla fine non ha retto probabilmente ha pagato lo sforzo effettuato in gara 2 a Milano dove ricordiamo a una fantastica partita dopo tre ore quasi di battaglia giovedì c'è gara 4 e c'è poco da festeggiare per nessuno perché sicuramente ci sarà da lottare per tutti e lo spettacolo è assicurato Le schiacciate dell'altro mondo continuano a fare la differenza nel nostro campionato non è una novità assoluta le nostre latitudini piuttosto a colpire è la nazionalità dei protagonisti dai quali arrivano punti pesantissimi che possono valere lo scudetto parliamo di Vasim Bentara opposto di Perugia che con la sua prestazione di gara 3 ha spinto Perugia al vantaggio per 2-1 nella serie di semifinale nato a Tunisi il 3 agosto del 96 l'opposto di padre tunisino e madre polacca a 2 metri e 0-3 non ha solo firmato 24 punti ma ha avuto anche il 65% di efficacia in attacco che è davvero tanta roba considerando anche che nel suo curriculum non compaiono squadre campionativi di altissimo livello tra le quali Lione Charmon Ajaccio e Sel Nisa in Polonia oltre al Qatar a fargli compagnia come protagonista di questa gara 3 delle semifinali playoff Ran Takashi schiacciatore giapponese nato a Kyoto il 2 settembre del 2001 che nella sfida di Trento è stato MVP e top scorer con 25 punti con i suoi soli si fa per dire 188 cm Ran sfrutta la sua grande capacità in elevazione la sua abilità in difesa per garantire quella reattività abbinata alla velocità di esecuzione che mettono in difficoltà tutti i muri cresciuto nelle giovanili della Nippon Sport Science University prima di arrivare a Monza si è messo in evidenza nelle due stagioni giocate a Padova e l'anno scorso con la nazionale giapponese ha vinto il bronzo nelle finali della Volleyball Nations League di Danzica Ci vediamo venerdì su Start in Six per seguire l'appassionante andamento delle semifinali dei playoff Scudetto Alla prossima